E' un po' difficile da dire, bisogna un po' prendere l'abitudine, no? Crowdfunding! Beh, la cosa bella di questo crowdfunding è che è una forma di scambio. Quindi per dire, sapere che tu con un contributo in fondo piccolo di 40 euro puoi avere la firma su un'opera del Bernini, che tra l'altro in questo momento è chiusa in una scatola, mi piace. E come faccio a fare questo crowdfunding? Molto semplice, vado su foritaly.org In Italia, lo chiamiamo Bernini. In America, lo chiamiamo Bernini. Ma è il stesso chico e vogliamo aiutarlo. Quindi, per favore, crowdfund. At foritaly.org Save Bernini! Grazie! 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 Grazie!